Andiamo avanti con la cronaca, andiamo a Pescara. Questa mattina una rapina alle poste di via della Pineta, ma per raccontarci i dettagli abbiamo in collegamento in diretta Luca Pompei. Buongiorno Luca. Buongiorno Marina, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, intorno alle 10.10.30 rapina all'ufficio postale di via Luisa d'Annunzio, zona Pineta, a Pescara, due malviventi con mascherina, travisati da una mascherina, del resto un po' in questo periodo Marina, siamo un po' tutti travisati, loro ne hanno approfittato con la mascherina per coprirsi parte del volto, i guanti e armati di pistola. Sono entrati nell'ufficio postale, hanno minacciato i dipendenti, le persone che in quel momento erano presenti nell'ufficio e si sono fatti consegnare i soldi presenti nelle casse. Ci hanno detto gli agenti della scientifica, Bottino non particolarmente ricco, ad ogni modo l'azione è stata fulminia, subito dopo sono scappati a piedi e hanno fatto perdere le loro tracce. Certamente d'aiuto saranno soprattutto le telecamere all'interno dell'ufficio postale, e gli agenti ci hanno spiegato che hanno già acquisito queste immagini, perché fuori noi personalmente abbiamo visto una sola videocamera indirizzata sulla posta, Matt, e non sulla strada circostante. C'è da dire anche Marina che il direttore dell'ufficio postale ha accusato un lieve e malore, è stato soccorso dai paramedici della misericordia, fortunatamente nulla di grave, dopo pochi minuti i paramedici sono andati via e quindi non è stato necessario trasportare il direttore all'ospedale. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile diretta da Dante Cosentino, non ci sono altri particolari elementi, ripetiamo, due malviventi armati di pistola, da capire se erano pistole vere o pistole giocattolo, sta di fatto che in pochi minuti si sono portati via il bottino dei soldi presenti nelle varie casse dell'ufficio postale. Credo che non sia neanche la prima volta che prendono di mero quell'ufficio postale, mi pare di ricordare. Sì, è vero, hai ragione Marina, sono già stati diversi episodi in quell'ufficio postale, anche perché con la pineta danunziana vicino è anche più facile far perdere le proprie tracce a piedi, magari disperdendosi nella pineta. Forse anche per questo l'ufficio postale di quella zona è particolarmente ambito. Comunque staremo a vedere, le indagini sono in corso, la squadra mobile di Dante Cosentino è già a lavoro e vedremo eventuali sviluppi. Grazie.